magari la riuscissi a pensare come lei ma io purtroppo quando ho visto uscire una skin non ho resistito anzi un pacchetto più che una skin sento qualcuno la dietro ha un fame ha un fame per te solo salame ah possiamo consumare queste però 48.000 non ci credo non ci credo non ci credo raga ma non ci credo ma non ci credo io non ci credo ciao ciao